Bene, tutto tranquillo. Buonanotte! Ci sarà un modo per uscire da te. Che paura! Ti piace lo spettacolo? Ciao, uomo ragno! La porta è spalancata, cosa fai lì ferma? Sul mio DNA ci sono dei campi energetici. Proviamo a confonderli con qualche molecola di ragno. Sei un vero genio. Ah, sciocchezze. Ehi, fermi, dove siete? Peccato, oggi il personale domestico è raro. Ero sicuro che ti avrei rivisto, tessi ragnatele. Speriamo che questa esperienza si risolva in un modo più piacevole dell'ultima volta. Per me sarà così. E' finita, uomo ragno. I ribelli saranno venti e la giovane Karen raggiungerà una tale grandezza che è quasi impossibile immaginare. Fatti curare, tu sei pazzo. Hai visto dove ti porta la tua insolenza? Ehi, è ancora qui la mia testa. Lascialo stare! Che c'è? Hai un debole per... Ti ho detto di lasciarlo stare. Sei sordo, forse? Cazzo! No, non farlo. Lasciaci andare! E' tua nipote! Come puoi? E' carne della tua carne! Ti prego, Laura! Oh no! Hai osato fare esperimenti su di lei. Le hai modificato il DNA. Prima o poi finirò quello che ho cominciato, mia cara. Ma aspetterò che tu sia pronta. Quanto a te, uomo ragno, rimpiangerai questo giorno. Tu e l'intera umanità, te lo assicuro. Ma cosa ti vuol fare? Cazzo! No! Care, sei salva? Già! Missione compiuta. Ritiriamoci in fretta. Allora, capo, cosa scegliamo come nuova base adesso? Che ne pensate voi di Coney Island? Ci sarà un po' da fare, ma ha un Luna Park fantastico per nascondersi. Davvero? Disegnata nuova base, Coney Island. Che cosa hai, tesoro? Come mai da quando siamo partiti sei così silenziosa? Ripensavo al passato, Bromley. Al passato. Ripensavo al passato, Bromley. Ripensavo al passato.